Un'altra volta, per l'assistenza, io ero in un servizio col caro a mano in via San Francesco, vicino all'ospedale, no? E vicino alla sede nostra. Sardò col caro a mano e in terra c'era uno che aveva le rombuzioni, si che si cercava di metterlo nella lettica, a quei tempi si legavano, ci si aveva le gambe, perché non pigliava un picchio nel muso, ma anche. Per cui si stava facendo questo lavoro e arriva l'ambulanza della misericordia, io la vedo da lontano, perché dietro il duomo, qui a San Francesco, la vedo là giù, e guarda, eccole, ora il casino. Però noi si continuavano e si stava tirando, alzando la lettica per infilarla nel carro. Arrivano loro, dice, no, si porta via noi. Beh, oh, ma scherzi, è lì, ma il casino, si porta via noi, io, 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 io. No, tanto vorrei c'è chiare. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.